Nel Vangelo di oggi viene presentata la Natività di San Giovanni Battista, anche con tutta la vicenda che riguarda l'attribuzione del nome, la scelta del nome in qualche modo indicato da Dio, Giovanni, e il padre Zaccaria che ritrova la parola nel momento in cui accetta per il figlio il nome voluto da Dio. Vi è poi la parte finale del Vangelo in cui in qualche misura si accenna all'educazione dello stesso Giovanni Battista. Giovanni Battista vive nel deserto e in qualche modo compie una sorta di tirocinio formativo per quello che sarà la sua missione, la missione per cui è stato chiamato, la missione del precursore del Signore. Questa annotazione di tipo pedagogico che troviamo nel Vangelo stesso, per cui Dio prepara per Giovanni non solo la famiglia che lo accoglie, non solo il nome che deve essergli dato, ma anche il contesto di tipo educativo e formativo in cui può prepararsi a svolgere la sua missione, è per noi un'indicazione particolarmente suggestiva, perché in fondo è quello che siamo chiamati a fare sul piano educativo anche nei confronti dei ragazzi, dei bambini, dei giovani che ci sono affidati. Man mano che in loro prende forma un orientamento, un progetto di vita, noi siamo chiamati ad accompagnarli senza appropriarcene, neanche decidendo il nome direi, dice il Vangelo, siamo chiamati ad accompagnarli perché possano in qualche misura prepararsi, prepararsi appieno a quello che progressivamente diventa il loro progetto di vita che in qualche misura è la vocazione a cui Dio li sta chiamando.